Ciao, sono Mary Antumiotto, agente immobiliare di Nama Real Estate, agenzia immobiliare di San Vincenzo, nella bellissima costa degli Etruschi. Mi trovo all'interno di questo caratteristico borgo, costituito da tre casali, con in comune queste due belle piscine e il gazebo, per rilassarsi leggendo un bel libro. Come potete vedere, il borgo è stato interamente ristrutturato, prestando particolare attenzione a mantenere intatte le particolarità storiche del posto, così come l'immobile che oggi voglio presentarvi. Questa porzione di casale si sviluppa su due livelli ed è formata da ingresso con soggiorno cucina, camera matrimoniale dalla quale si accede all'ampio giardino posteriore ed un bagno. Un'elegante scala in legno consente di accedere al soppalco, utilizzabile a piacere, come sala relax o camera da letto. Il giardino gira su tre lati dell'abitazione ed è l'ideale per godersi le tranquille e rilassanti serate estive. Dall'appartamento è possibile raggiungere le terme di Sassetta, con una piacevolissima passeggiata tra bosco e vigneti. Se vuoi vedere questa bellissima soluzione, chiamaci subito! Ciao ciao!